non ha capito più si ecco qua ecco qua beh oh 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 è finita Pasqualino 2 Luigi ma che le le andre è Guido Filippo che è Pasqualino? ah la Pasqualina la Pasqualina la Pasqualina dice no sono io presente io non c'è autopia adesso c'è sua zia quanti nuovi animale che conosce vabbè perché dici gli fanno male? no quando l'allacciata è qua la fibbia non c'è c'è di fiore si andate si andate si andate sei andato con una idea no no ma deve stare come merenda ha fatto in macchina dietro quando io guidavo non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma non c'è non c'è non c'è non c'è ma non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma non c'è verona ce l'ho io ho posato no lo ho posato io con Giazmila e Greta metti tante acude vedi che fai ma te ne sono non vedi tiene gli occhi tutti